Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio Io sono Ikade ed oggi siamo sulla Ikade Park Ragazzi siamo sulla Ikade Park, la serie moddata che vi avevo detto La serie moddata che vi avevo detto che il trailer che avevo fatto vi avevo fatto vedere che erano sette mod Beh non sono proprio sette mod ma ne sono ben di più perché Come si dice Ho aggiunto altre due mod che ho visto gli screenshot e sono molto belli questi due mod Ora da sette ne saranno undici mi sembra perché poi ho aggiunto l'altra forza Sì sono in tutto undici mod Ho aggiunto la Battle Tower e la 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 Balcon Weapon Mod Che è una mod veramente sicuramente Una Quindi iniziamo questa sopravvivenza con le mod Speriamo di trovare già dei dungeon belli Speriamo Se avete mod da consigliarmi Se io potrei rimastere che non sono pesantissima Ditemelo Così io le prendo in considerazione Se sono belle non mi langano nella serie Le potrei pure aggiungere Aggiungere Allora questo qui Passiamo un banco di lavoro Così Così Andiamo all'app della pietra Cominciamo con la serie Cominciamo con la serie Allora Passiamo un piccone Un piccone di legno Insomma Avete capito che sono i soliti nissi Ragazzi Se sentirete l'audio è un po' diverso Perché Ragazzi Mi si è reso il computer Sto usando il mio computer Quindi Non sarà Perfetto Non saranno perfetti video Però Almeno Mi arranjo con questo Appena ci aggiungo il computer Appena ne avrò Che non so Non so Appena Sistemano un po' le cose Riprenderò a fare i video Normali Se invece vi piacciono i video di questo computer Ditemi Perché li farò sempre con questo Io adesso Lo faccio solo per non lanciare indietro le serie Non lanciare Indietro il canale Ecco Ok Siamo a 18 Passiamo 1 E va Fanno anche le cantifil Allora 1 E 2 E 2 2 Andiamo a A Esplorare un po' il mondo Vabbè Prima ci prendiamo un po' di tipo Mucca 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 Ne sono altre due Uccidiamo questa cucca Mucca Mucca Antipatica Perché sali? Lo sai che devi morire? Oh La carne Uccidiamo questa cucca di culo E' molto bella Mucca 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 Sicuro Sono sicuro Sono sicuro Ecco Gravel Ecco Ecco Le vado I buchi mi mettono sempre Sospetti Sospetti Ma Non c'è niente Ma Molto Strano Uccidiamo questa buchetta Prendiamoci su Sipo Oh Ve l'avevo detto che i buchi mi mettono sospetti Io controllo sempre le zone Allora Lì c'è del ferro Quindi ci prepariamo subito Perché Per esplorare I dungeon Servono Armature Adeguate Spade adeguate Nel senso Molto Forte Come al minimo Io li vorrei partire già in ferro Nei dungeon Quindi Voglio prenderselo ora Allora C'è del ferro lì Ferro lì Acqua E Mob Non c'è nessuno E normal Qui Non c'è niente Non c'è niente E Qui altro ferro Quindi Abbastanza di ferro Mamma mia Un po' di ferro Sempre un po' di ferro Fa bene E Dobbiamo trovare pure in abbondanza Eeeh Eeeh Mamma mia Grazie 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 Questa Passiamo Così E Così E Un altro E Un 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 è forse una miniera vera ma non lo so la puoi ripetere? no 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 ragazzi no una miniera una miniera se mi ha prendito no no pronto ho perso quel posto non c'è mai vero andato no l'ho vista questa mannazza creeper por ma creeper ti odio creeper ti odio fuck non cazzo è solo ecco la eccola dimmi che è questo dimmi che è questo dimmi che è questo speriamo che non ho perso la abita può scappare qui vuoi meno male che non c'è da animo abbo ma che cazzo sono morto di nuovo sono morto di nuovo ma che cazzo ma vaffanculo ma di cazzo sono sti cazzo di mob si comincia a sclerare di brutto pure e dopo le notte no ragazzi no non si può non si può ero felice di aver trovato una miniera appena iniziati e c'è un'imbasione di mob c'è in tutte le grado non ci sono una miniera si ma che cazzo ora c'è creeper qui cazzo i cazzo che è che mi spara cangia i nostri coglioni e vaffanculo una buona volta pure tu fanculo cioè tu non potevi rompere con le altre parti no non vuoi venire qui e adesso muori sono nervosa ragazzi sono nervosa si comincia con lo sclero già con lo sclero ragazzi io direi di farvi un accesso perlomeno almeno che moriamo qualcosa per riprendermi cioè per come si dice per andare a riprendere la roba ecco allora questo tolato questo via questo via questo via 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 no questa è la possibilità direi A quel revoir, ah si, ah ragazzi che sclero, che sclero della madonna, non lo so, cioè io non pensavo, io ho detto ma non ci sono tanti mob, cosa potrà mai essere? Invece, ondate di mob del cazzo proprio, bello ragazzi, bellissimo proprio, bello proprio, bello, 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 bug del cazzo, allora, uno di questi, gli altri due dovrebbero, no? Minerali nuovo, ah, qui si continua, bisogna riprendermi un po' di pietra così saliamo lì su, uno, due, voglio vedere cosa c'è sotto, allora, uno e due e una tosta qui. Minerali nuovo che noi ci prendiamo per vedere cosa è, cosa c'è? Vabbè, qui è finta, qui c'è la roba, minerali nuovo, qui piazziamo una tosta per evitare spunghi mob. No, senti, se devi esplodere, non la fare qui perché se non mi incasso e sono cazzi tua poi, eh. Non rompere i maroni, sembra me, ci sono altri giocatori che giocano perché li rompere i coglioni a me, ci sono scheletri. Che, che è una fuori che giocatori che ero, nessuno vorrebbe le perd Che, 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 che che, 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 a prend font parte, che, all'imp bridgello, adda è fatti, ma, cond segue tutto i schig Character, un sblusione, a un coscto ma不會 riprendere dentro la gadoa. oh sch Allora, ora sto qui, sto 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 qui. Stavo parlando delicatamente con il creeper, quando lo fa? Boom! Sacco! Ma che cazzo! Oh no ragazzi, no, devo fare una cosa, devo fare una cosa, devo fare una cosa, devo fare una cosa. Via, 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 via. Ecco, avevo visto qualcosa che camminava, stronzo! Via, no. Via, via. Via, un attimo. Mi sembra la congresso, mi sembra la congresso. Vediamo tutto questo qui. Vediamo ora, se passate! Oh! Piccone, piccone. Carbone, questo, questo. Allora, il ferro è cozinato. Passiamoci un po' di torse. Ok ragazzi, per questo episodio è tutto, ovviamente, ci vediamo nel secondo episodio, ovviamente, LOL. Credo che la let's play la lascerò un po' da parte oggi, perché siccome sono stati compiuti, ho perso i salvataggi, quindi ci dedichiamo solo alla serie mondata, quindi arriveranno parecchi episodi della mondata e forse anche del più di più. Non vi preoccupate, vi tratterrò io. Da... Il che è tutto. Ciao a tutti.